buongiorno a tutti sono paola felici e voglio spendere qualche parola su full summit che cos'è il full summit un evento che già da alcuni anni si ripete che riunisce i migliori esperti a livello mondiale per ciò che riguarda il benessere e la realizzazione promosso da un'organizzazione fantastica high performance don saracomio chi sono io come ho detto io sono paola felici sono una psicologa psicoterapeuta che da molti anni mi occupo di transgenerazionale costellazioni familiari ipnosi e varie altre tecniche rivolte tutte alla realizzazione personale familiare collettiva oggi qui qui nel full summit io parlerò di ciò che ci tiene legati a destini difficili ad accadimenti che a tutti i livelli successo relazioni salute a tutti i livelli nel tempo si ripetono come se fossero degli appuntamenti si ripetono senza tregua e senza poter avere una buona soluzione che cosa facciamo noi con con la tecnica delle costellazioni familiari ed altre andiamo a recuperare l'origine del di questi eventi per annullare la ripetizione e poter vivere una vita ricca e piena di benessere parlerò inoltre brevissimamente dei live gadget che sono degli accessori da portare con noi nella vita che ci permettono di realizzare i nostri desideri e qui vi saluto un saluto da me e un saluto da pistacchio mio assistente ci vediamo al full summit diudio